Faccio scommesse, che idea ti sei fatto di quello che è uscito fuori con Tonali e tutti gli azzurri? L'idea che si è fatta tutta Italia, prima di parlare aspettiamo, vediamo che cosa succederà. Comunque Corona non si è inventato niente, perché quello è il metodo Amadeus, che sanno tutti il metodo Amadeus di annunciare nomi a orari, quindi io, forse Amadeus, denuncierei Corona per il copyright di questo suo modus operandi, che è quello di annunciare i cantanti, annunciare i conduttori, annunciare chi sarà il cameraman della terza serata, annunciare qualsiasi cosa, quindi Corona ha adottato il metodo Amadeus.